Oggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale e nello specifico parliamo di Meet Journey. Meet Journey è un algoritmo di intelligenza artificiale che permette di creare delle immagini a partire da delle descrizioni testuali. Le immagini possono essere riprodotte in molti stili diversi, in acquerello, in disegno matita, in stile manga, ma anche in immagini iper realistiche che assomigliano in tutto e per tutto a vere fotografie. Può rappresentare una risorsa molto utile per i wedding planners e più in generale per tutto il popolo creativo della wedding industry, ma oggi cerchiamo di capire meglio che cosa può permetterci di creare. Per creare un po' di hype, guarda qui, questo è quello che mi ha generato Meet Journey il 29 novembre del 2022, con questo prompt. Lo stesso prompt oggi, 17 aprile 2024, restituisce invece questo. Immaginate cosa potremo fare fra un anno. Io sono Monica, aiuto wedding planners e professionisti del wedding a crescere e fiorire. In questo canale parliamo di matrimoni, ma anche di strategie, di marketing, di ispirazioni e di strumenti per chi lavora nella wedding industry. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perdere i prossimi video e ho creato per te anche una library di risorse gratuite a tua disposizione e spero possano esserti utili. C'è anche un quiz per scoprire i tuoi superpoteri di wedding planner. Puoi farlo subito il link in descrizione. Allora, non me ne vogliano gli illustratori, i grafici, i bozzettisti, neppure i fotografi, ma ficcare la testa sotto la sabbia non vi aiuterà, non ci aiuterà. Cerchiamo di capire a che punto siamo, cosa si può già fare oggi e cosa no, o almeno non ancora. Iniziamo con una premessa. Abbiamo detto che Meet Journey è un algoritmo text to image. Si parte quindi da una descrizione testuale di quello che si vuole tradurre in immagine. Questa descrizione testuale è chiamata prompt. Il prompt engineering è la disciplina che progetta, affine, ottimizza i prompt al fine di ottenere output sempre più precisi. Ora, le applicazioni nello specifico sono tante davvero, ma volendo generalizzare un po' io credo che al momento Meet Journey possa aiutarci in due modi. a generare delle idee e a tradurre le idee in immagini. Nel primo caso i prompt saranno più generici, più brevi, lasceranno a Meet Journey lo spazio per sorprenderci, per stimolarci, per accenderci delle lampadine, per creare delle connessioni a cui non avevamo pensato. In questo caso stiamo usando Meet Journey come un thinking partner, ci facciamo brainstorming insieme. Nel secondo caso invece i prompt saranno più precisi, più dettagliati, useremo Meet Journey come un esecutivista, cercheremo di fargli rappresentare quello che abbiamo già nella nostra testa. Nei prompt non usiamo solo testo descrittivo, ma possiamo anche inserire delle specifiche più tecniche di ad esempio luce, profondità di campo, ottica, stile eccetera eccetera e possiamo anche usare dei parametri. Ci sono tutta una serie di parametri che combinati alla descrizione ci aiutano a guidare, indirizzare Meet Journey verso una determinata direzione. C'è il parametro stile, c'è il parametro chaos, c'è il parametro weird e altri ancora. Possiamo anche dare a Meet Journey dei riferimenti visivi a cui ispirarsi, a cui fare riferimento. E a questi riferimenti visivi possiamo attribuire un peso diverso di volta in volta, cioè possiamo dire a Meet Journey quanto vogliamo che quel riferimento sia tenuto in considerazione. Stessa cosa per i prompt, posso chiedere a Meet Journey di considerare una parte del prompt come più importante di un'altra. E ora con Meet Journey 6 c'è anche la possibilità di rilavorare un'immagine andando a variarne solo una parte, magari più volte. E anche abbiamo adesso la possibilità di fare zoom out, ampliare il campo e anche quella di ottenere una immagine con una risoluzione decisamente più alta. Queste erano delle limitazioni di Meet Journey delle versioni precedenti di Meet Journey che sono state superate. La cosa molto divertente, almeno io la sto trovando molto divertente, è che ci sono delle tecniche, delle strategie che ci aiutano ad arrivare al risultato per step successivi. Esattamente come con ChatGPT, alle volte questi strumenti si confondono un po' quando il prompt è troppo lungo, troppo complesso, non riusciamo a fargli fare esattamente quello che vogliamo e allora bisogna avanzare per step successivi. E comunque va detto, il processo può essere lungo e time consuming e non sempre ci si riesce, non sempre si riesce a fargli fare esattamente quello che abbiamo in testa. Soprattutto non è facile mantenere la coerenza fra lavori diversi e non è facile fargli usare un'immagine come riferimento fedele. Anche dando all'immagine un image weight alto tende a non riprodurne in modo fedele le caratteristiche. Questo per ora. Ma ci sono anche gli usi ibridi che vanno valutati. Facendo un po' di ricerca vediamo che ci sono ad esempio bozzettisti che lo usano per lavorazioni intermedie e poi vanno a ritoccare e finalizzare solo in fase finale. Ci sono fotografi che ottengono l'immagine di sfondo con mid journey e poi vanno a scattare il soggetto, il prodotto per inserirlo in quell'immagine. Che non è niente di nuovo, in realtà in pubblicità si faceva già con le banche immagine vent'anni fa. Quando il budget non permetteva di andare a scattare in esterno, ad esempio, si comprava la foto di quel paesaggio e poi si inseriva il prodotto. Si doveva ovviamente scattare il prodotto con le stesse situazioni di luce, quindi ci sono delle competenze tecniche che il fotografo deve continuare ad avere per poterlo poi inserire nello scatto di background. Quindi niente di nuovo, ma quello che possiamo ottenere, il background in quel caso che si può ottenere, è qualcosa di pazzesco e tra l'altro generato magari in pochi secondi. L'intelligenza artificiale non va intesa come una bacchetta magica, ma come uno strumento molto potente che abbiamo a disposizione. Oltretutto Amica non c'è solo Mid Journey. Ogni giorno nascono nuovi algoritmi, nuovi software che utilizzano l'intelligenza artificiale e per alcune applicazioni specifiche potrebbero già esserci gli strumenti adatti. C'è tanto da studiare, tanto da sperimentare. Ora, ci sarà chi chiude gli occhi e si immerge e cerca di passare sotto l'onda e ci sarà invece chi sale sulla sua tavola da surf e la cavalca. I secondi conquistano un vantaggio, perché quando le onde saranno ravvicinate lo capiranno tutti che non si può stare con la testa sotto, ma adesso sull'onda ci sono ancora in pochi. Tu dove vuoi essere? Il 27 aprile terrò un workshop online su Mid Journey per il wedding. Sperimentiamo insieme. Se vuoi partecipare il link è in descrizione e i posti sono limitati. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie